L'ASL potrebbe riaprire il dialogo con la Regione Puglia per i lavoratori di Sanità Service. All'indomani della manifestazione di protesta che ha portato gli operatori di Sanità Service a protestare sotto la sede centrale dell'ASL Foggia per il mancato pagamento della premialità Covid, la mancata assunzione per coprire il solo turnover degli ausiliari ma anche il blocco delle assunzioni sono i motivi che hanno visto la nuova protesta. Al termine della manifestazione una delegazione di lavoratori accompagnati dal sindacato USB è stata ricevuta dalla Direzione Generale dell'ASL e di Sanità Service. Ai vertici dell'ASL i lavoratori hanno avanzato le richieste e soprattutto presentato le criticità che li ha portati a protestare nuovamente. Per quando riguarda il blocco delle assunzioni già programmate, approvate e finanziate mette a repentaglio, dicono dal sindacato, le pulizie dei presidi ospedalieri e dei servizi territoriali e va a stressare il personale in servizio con una montagna di lavoro straordinario e la non concessione di giornate di ferie. Inoltre, dicono dal presidio USB, abbiamo fatto notare che il servizio occupa in grande sofferenza per la carenza di personale che costringe i cittadini a fili interminabili stante la chiusura di molti sportelli per la carenza di operatori. Proprio su questo dalla Regione Puglia erano arrivate rassicurazioni relativamente al progetto Hospitality che presto sarebbe partito e che invece ancora non vede la luce. Si è chiesto inoltre al Direttore Generale di ASL e Sanità Service quali sono le intenzioni relative al progetto di abbattimento delle liste di attesa con l'apertura di nuove strutture dall'ospedale di comunità ai vari servizi territoriali previsti dal PNRR senza che vi sia il personale dedicato e poi dicono per non parlare di medici, infermieri e os ma anche di ausiliari e operatori del CUP. Per quando riguarda le premialità Covid per i dipendenti di Sanità Service e del Servizio 118, l'ASL e Sanità Service avrebbero comunicato che la Regione Puglia non ha ancora mandato il pagamento del premio ai lavoratori, a differenza invece di quanto aveva assicurato lo scorso 26 aprile che i pagamenti sarebbero stati attivati il 2 maggio scorso. Sia la Direzione Generale dell'ASL che quella di Sanità Service dunque hanno accolto le doglianze dei lavoratori e hanno garantito di riaprire un percorso di dialogo con i vertici regionali.